degli altri attaccanti a full pallone dentro ha provato a girarlo Rabiu c'è stata deviazione a su di testa riesce a servire a Samojian che prova a controllare poi il tiro là fuori Neuer sulla staffilata incredibile di Montari il suo sinistro potenziale il pallone sopra la difesa tedesca qui rivediamo la conclusione di Montari altra parata non difficilissima di Neuer ma fatta con grande efficacia buttato con la respinta di pugno il pallone direttamente in fallo laterale avesse segnato sarebbe diventato